Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2 Interrogazione ed educazione fisica 7 Cotto con un riccio, il riccio si è aperto, vedete i capelli si sono aperti, il riccio è tutto aperto, è qui la festa Edizione intorno alle 23 e 40 circa, buona proseguimento di serata Non ti permettere mai più, mai più di nominare il web Si è diventato, si è diventato famoso, sei diventato famoso grazie a un meme sul web Spero che anche lui si ricordi di me, ti ricordi? Di te no, in televisione si Tu non hai fatto un programma con me? Ti lascio una canzone Ah quell'altro ho capito Lui mi ha bloccato, questa mattina Antonio Zechila mi ha bloccato su Instagram Signore e signori, si è offeso così tanto a tal punto che i suoi Oscar non valgono più niente Marco! No, non si può zoomare, aspetta Marco! Regalaci una maglia, dai Marco! Regalaci una maglia! Dai, dai! No, perché su Wikipedia non c'è scritto niente Su tutti i siti non c'è scritto niente In più c'è un'intervista con Carina Cascella di tempo fa Dove ti sbugiarda e dice che anche lei che non hai vinto proprio niente Quindi Antonio Zechila, prima tu pensavi che noi cretini del web, giovani, non ci saremmo informati E invece ci siamo andati a informare Non puoi fottere con quelli del web, su internet non c'è scritto niente Zechila, non hai vinto un cazzo Io decido che tu nella mia televisione non ci stai Saluta passata! Ciao! Chiudere! Chiudere! La CIA! Spontane è passato! Presente! Abbiamo fatto una passata? Sì! Bassano? Sì! Bassano? Dai! Passata! Eh, infatti è passata! Poveramente! Bassano? Presente! Sei tu? No! Ma io sono solo la camera! Ora sono... Bella patata! Sono io bella patata! Non è lei! Ciao a tutti, folettini e folettine E tornati in questa nuovissima storia Ma chi è che mi chiama? Ma è il mio amico contabile! Mi chiede il cellulare, risponde! Pronto? Sì! Ma chi è che mi chiama? Ma è il mio amico contabile! Mi chiede il cellulare, risponde! Pronto? Ti do questa soddisfazione! No! No, no, no! Prego, no! Dimmi, no! Dimmi, no! No, no, no! No, no, no! No, la prego! La prego! La prego, signore! Hai capito che Mark Caltagirone? Non esiste! Non esiste! Ridimmelo! Non esiste! E può tenere! E può tenere! Sono tutti suoi! Ma guardi, se li tengono a resti così! Oggi penso, nella mia mente, nel mio cuore, che lui esiste! Non può non esistere! Ma non esiste, Pamela! Non esiste, Pamela! Marco Caltagirone, non esiste! Senti, baby! Ecco! Inutile girarci intorno! Io ti voglio! E non me ne frega se c'è qualcun altro che ti vuole! Io sono DD! Dennis Dose! Sai perché non è una rotella? È farlo con te! Sai perché? Per chi vuoi avete questa settimana, ti sentite importanti! E voi dovete salperlo per cazzo! Vieni con me! Che bocconegine! C'è una roba speciale per te! Tatti, qualsiasi cosa che io dico, ma questo è quello che io dico, voi dovete capire, se trovate le molte cose del video, sicuramente non è vero! Carote, carote, solo carote, le regalo a mio nipote, diventano banconote, le scuote e le percuote, cellule e eucariote! Mi raccomando non dovete dire parolazze, cattivi, cattivi! I bruchi diventano farfalle, quindi noi ci modifichiamo, voi siete ragni e ragni resterete, ciao! Perché io l'amo, l'amo con tutto il mio cuore, no, anzi col cuore no, l'amo con la testa, ma neanche con la testa, perché io non l'amo! Non è buono, diciamo, io non ti faccio più! La lettera è importante, che ho scritto col cuore, e la tengo in casa forte. In prima serata, speciale uomini e donne, Gemma e Giorgio, la lettera che non gli ha mai dato. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Perché, perché, perché? Prima l'italiano Immigrato, chi ha lasciato il porto spalancato Immigrato, ma non t'avevano rimpatriato Bebe, vedi! Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok